Portland YSS, non vuole rischiare niente, Virzima sbaglia, di galoppo, Portland YSS il favorito netto, ha voluto partir piano Virzima, il cavallo è scomposto comunque, al comando Pinturicchio ZS, c'è lotta per le posizioni, con Pepita Dalvio che si inserisce lasciando in terza Peteto Pra che finisce con lo sbagliare, poi lungo lo steccato in seconda posizione c'è il 9 Pombia, resta all'esterno Pepita Dalvio che adesso punta in avanti su Pinturicchio ZS, vediamo le posizioni, con in terza ruota Ptifoto SM che cerca di andare su Pinturicchio, 36 per i primi 400, Francesco Pettinari rompe gli indugi e va a scavalcare anche Pinturicchio ZS ed è nuovo battistrada, sempre all'esterno Pepita Dalvio. Cavalli adesso che arrivano ai 600 di gara, passati in 46 e 2, c'è stato ritmo perché la partenza è stata un po' caotica, adesso in mezzo alla pista viene all'esterno Massimo Petrini che con Perla Diamond raggiunge il battistrada. Cavalli che sono adesso dopo 800 metri in 1-2-2, si è ricongiunto anche il favorito Portland Wise AS che è molto indietro ma a contatto del gruppo, adesso si è ritirata Pepita Dalvio praticamente, al comando sempre Ptifoto SM, all'esterno viaggia Perla Diamond, lì sotto Pinturicchio ZS, ha spostato Pombia in anticipo su Paperone Parra. Si lancia in mezzo alla pista Portland Wise AS, cerca il recupero dopo l'errore iniziale, Portland Wise AS che ha recuperato 50 metri al via, adesso va sui primi con Ptifoto SM che cerca di scappare ma Portland Wise AS lo raggiunge, Ptifoto al comando, Portland Wise AS che va di un'altra categoria, Portland Wise AS che ha regalato 50 metri al via, si è fatto un giro in mezzo alla pista e adesso sul palo, ha due lunghezze e va a vincere Portland Wise AS nei confronti del numero 5 Ptifoto SM, poi il numero 2 Pinturicchio ZS mentre per le altre piazze è spinta all'interno Perimetro Barra che è in lotta con Peter Panalca. Vittoria in 1.16.8, c'è 31 a chiudere ma dopo un errore grave in partenza, Portland Wise AS, prestazione sotto i due minuti ma anche meno forse per il vincitore. Secondo il numero 5 Ptifoto SM, terzo Pinturicchio ZS, tenete i biglietti, Portland Wise AS ha sbagliato. L'impressione che lo abbia fatto già prima dello stacco e poi sia stato rallentato, quindi la giuria non sembrerebbe azionare neanche il giallo.